Prima di cominciare voglio dire che il disegno non è digitale, quindi la fan art, mi sono scordato, questa è una fan art per under, che è uno youtuber che seguo e che vi ho lasciato pure il link del suo canale in descrizione di, mi sembra, l'ultimo video che ho caricato. Quindi, allora vi stavo dicendo, io col disegno tradizionale non è che ci vado molto d'accordo, dato che gli spazi bianchi, dato che io sono abituata a colorare velocemente, quindi un po' la bruttezza di questo disegno è il fatto che ci siano un po' di spazi, non spazi bianchi, nel senso, cioè va bene, insomma avete capito. Insomma, questa è la fan art, la devo inquadrare bene, questa è la fan art per under, aspettate che le inquadra in modo, aspettate che accendo la luce, scusate. Questa è la fan art, speriamo si veda bene, spero che a under gli piaccia, quindi il video lo finisco qua. Oh, questo è caduto il telefono!